ragazze vi voglio fare vedere non mi dite poi che sono esagerata allora guardate qui questa zona del salotto è finita che io la faccio quasi ogni giorno perché una sera ci mangiano qua i miei figli un giorno dicevo la visita guardate ora qua come si è sporcato non so se riuscite a vederlo vedete tutte queste pedate cose perché ieri appunto c'è stata questa specie di tempesta mio marito ha entrato delle cose che erano fuori quindi mettendo i piedi fuori nel balcone dove pioveva rientrando mi ha combinato un macello ma insomma io lo faccio vi ripeto quasi ogni giorno quindi non mi pesa tantissimo però vedete i pavimenti si sporcano poi volevo rispondere nel frattempo a qualcuna di voi allora l'altra volta c'è stata un'amica che mi segue sempre molto carina che mi ha detto marianna una curiosità ma quando tu lavi i pavimenti come fai con tutte le cose che hai lanterne tavolini sedie e tutto quanto che c'è mai hai paura si sta buttando un vento fortissimo mamma mia e maia si mette in allarme allora appunto volevo rispondere allora ragazze è chiaro che io questa pianta è pesantissima non la alzo mi alzo le sedie come dire questa era a terra e l'ho tolto questo candelabro era messo a terra è leggero e lo posso alzare ma è chiaro che poi non tolgo né questo né il tavolino cioè non è che tolgo tutte cose e poi naturalmente ad esempio per ora mi faccio la parte del salotto mi faccio tutto qua tolgo il tappeto il tappeto lo pulisco con quella specie di scopa che ho comprato dall'altra volta e vi ho fatto vedere nel frattempo che poi mi faccio la zona pranzo ad esempio gli sgabelli questi qua dell'isola me li sposto dove già ho pulito e così via quindi faccio così quindi per chi mi ha chiesto come fai con tutte queste cose qualcosa la tolgo qualcosa no poi un'altra cosa qualcuna mi ha scritto Mariana ma perché amare e tu riprendi sempre lo chef ma a te non ti si vede mai e me l'ha scritto due volte allora ragazze io sono una donna di 63 anni ditemi quello che volete sì sarò piacevole ma sono sempre una donna di 63 anni con i propri complessi con le proprie fissazioni e quindi vi dico la verità non mi va di mettermi in mostra in costume perché ho la pancetta non ho cellulite per fortuna però insomma ho le mie fisse come si dice però visto che insistete se io vi faccio vedere una foto di quando avevo 20 anni allora qui ho 20 anni sono a Ustica e questa foto è stata diciamo una foto rubata di fatti vedete scusate se è così mette un po' a fuoco meglio ecco questa sono io a 20 anni quindi fatevi un'idea certo ero una bella ragazza avevo un bel corpo non mi potevo lamentare naturalmente ragazze ora 63 anni due gravidanze che volete non mi va di espormi mettermi in bichini farmi le foto non mi va quindi accettate questa foto di quando avevo 20 anni così e vi fate un'idea di quella che ero e di quello che potrei essere poi vi faccio vedere un'altra foto ma tra l'altro queste foto penso in passato sì bene di avervele fatte vedere per esempio qui ho 36 anni e qua sono vedete ho sotto ho un costume intero turchese turchese la mia collana con la pietra di turchese una minigonna turchese e questa camicia fantasia e sto ballando qua sono presso un villaggio favoloso che c'è a San Vito lo Capo che si chiama Calampiso che per ora purtroppo sta avendo dei problemi e qui ho 37 anni 37 anni quindi diciamo fino a quando insomma c'è quest'età così una si espone ma voglio dire alla mia età tra l'altro non sono magro qualche chilo di troppo lo sapete di fatti vado in palestra ho perso qualche chiletto però ragazzi ripeto mi fa piacere che me l'avete chiesto però insomma a quest'età mettermi in costume e fare chissà che non mi va allora vi faccio vedere a che siamo in tema foto guardate mio figlio Marco a due anni che bambolotto che bambolotto guardate guardate che meraviglia di bambino guardate che meraviglia di bambino un bambolotto guardate qua aveva due anni aveva il completino della Juventus col pallone perché lui era un patito appreso da mio marito già da piccolo piccolo era un patito del pallone e quindi mio marito gli comprò questo completino della Juve insomma ma avete visto quanto è bello bellissimo ok ragazzi allora io adesso faccio quello che vi avevo detto e quindi continuo a pulirmi i pavimenti già mi sono fatta la camera da letto si è asciugata credo che sia già asciutta credo che sia già asciutta si già è asciutta ragazze che meraviglia di fresco ve lo vorrei fare sentire fatemi sapere da voi com'è il tempo ragazzi allora che cosa avevo raccontato stamattina che avevo bisogno di questo liquido per riempire le boccettine per fare le bolle ebbene ho parlato con il mio chef eccolo qua che è un portento e me l'ha trovato subito vabbè definita bene perché c'era brutto tempo ah perché sennò eri a mare dal pescatore pesce non ce n'era ah e quindi mi sono dedicato a girare a girare per le bolle comunque non è stato facile vabbè comunque me l'ha trovata me l'ha trovata ragazze quindi ora non mi resta che riempire le boccettine e diciamo il problema è passato meno male che stamattina mi è venuta la voglia di fare due bolle mi sono accorta che erano vuote poi ragazze mi ha portato le noci di cui siamo golosissimi poi ha comprato della bella frutta ha comprato scusate le albicocche poi ha comprato le pesche e poi ha comprato una cosa che a me fa impazzire questo formato di pasta che praticamente non sono busiate ma fosse tipo come c'è ah no busiate busiate trapanesi originali ragazze io ho scoperto queste busiate e niente ragazze mi fanno impazzire mentre prima oggi c'è la dieta mentre prima impazzivo per lo spaghettone per la fettuccina da quando ho assaggiato queste busiate ragazze niente quando io mangio la pasta molto spesso mangio questa perché mi piace troppo va bene oggi pasta niente lo yogurt ah bene il mio piccino mi ha portato lo yogurt quindi yogurt e basta e non devo mangiare basta è zero perfetto e quindi non devo mangiare altro devi mangiare solo tu recupero quindi devi mangiare solo tu va bene va bene ok ragazzi allora io vi saluto ho finito di fare tutta la zona giorno ho fatto la camera da letto devo rimettere un po' di cose al suo posto e devo fare ancora la cameretta ma in realtà mi sono seduta 10 minuti ho chiamato una mia amica e mi sono riposato un poco va bene ragazzi allora io vi saluto sono contenta perché ho risolto il problema delle bolle e noi ci vediamo come al solito prima possibile e le